Ciao a tutti, sono Gabriele Masi, ho 23 anni e sono venuto qui perché Spring Awakening mi piace davvero tanto e spero di fare parte del cast. All that's known in history and science, overthrown a school at home by blind men, you doubt them and soon they bark and argue, till everything you said is just, there's a mob that you know, you're fucked, not a niche one room, to self-destruct, not a niche one room, so yeah, tomorrow I've done... Soltoli fa, no, penso che sia andata veramente bene e spero di essere con voi per questo spettacolo e vi ringrazio tanto. Grazie. 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 Grazie.